Ciao, benvenuti a questa nuova edizione del Villaggio per la Terra 2020. Questa è un'edizione speciale perché è in occasione del cinquantesimo anniversario dell'Earth Day, una manifestazione che coinvolge i giovani da tutti i paesi del mondo. Io sono Mario del progetto Seguimi promosso dalla fondazione Mario Diana Ollus. Lo scopo del progetto Seguimi è quello di educare il rispetto dell'ambiente attraverso azioni semplici che possiamo compiere ogni giorno, come ad esempio imparare a fare la raccolta differenziata. Ed oggi insieme scopriremo Seguimi. Ed eccoci di nuovo insieme per scoprire oggi il nostro Waste Travel 360, cura di ancita, l'energia e l'ambiente. Innanzitutto andiamo sul nostro sito progetto Seguimi.it, scorriamo la pagina fino a Waste Travel 360, clicchiamo su Scopri di più, poi su Accedi a Waste Travel 360. Semplice no? Ed eccoci nel nostro divertente gioco in cui attraverso un tour virtuale possiamo scoprire il mondo del riciclo e dei rifiuti. Lui è il nostro simpatico Super Blebla che ci accompagnerà attraverso questo viaggio. Con l'utilizzo del mouse possiamo esplorare la stanza e scoprire tutti i materiali che possiamo trovare anche a casa nostra, come le batterie al piombo, gli imballaggi in plastica rigidi, l'alluminio, acciaio, organico, plastica, vetro, carta, eccetera, eccetera. E possiamo seguire uno dei tanti materiali. Seguiamo ad esempio la carta. Eccoci entrati in una stanza virtuale dove possiamo ascoltare il nostro Blebla o leggere tante interessanti informazioni. e fase dopo fase, stanza virtuale dopo stanza virtuale, nelle quali possiamo anche vedere interessantissimi video, arriviamo alla fine a scoprire in che cosa si è trasformato il materiale da noi scelto. Scopri cosa rinasce. Ad esempio in che cosa si trasforma la carta riciclata in cartone, libri, quaderni, carta igienica. Cliccando su home possiamo ritornare dal nostro super Blebla e seguire un nuovo materiale. Inoltre abbiamo anche l'accesso alla modalità virtuale. Indossando quello che chiamiamo misure possiamo accedere alla stanza virtuale. Ci sembrerà di essere davvero lì dentro. Il viaggio sarà ancora più eccitante. Semplice e divertente. Siete pronti a viaggiare nel mondo di riciclo con il nostro super Blebla? Bene, grazie di essere stati qui con me. E ricordate, one people, one planet.